Benvenuti sul canale YouTube ufficiale di Meteo Italia, è arrivata adesso una conferma molto importante per quanto riguarda la neve in pianura, infatti tra giovedì 8 dicembre e venerdì 9 dicembre potrebbe tornare la neve a quote molto basse o addirittura fino in pianura al nord, come vedete in questo grafico la neve dovrebbe cadere con discreta intensità a partire dalla sera dell'8 dicembre fino al mattino del giorno dopo sul basso Piemonte. Più precisamente a Cuneo, Asti, Alessandria e addirittura possibile pioggia mista a neve anche su Torino e Biella. Nevicate a quote molto basse anche sulla Lombardia e sul Trentino Alto Adige con fiocchi fino alle città di Bolzano e localmente sopra i 400 metri su Trento. Mentre sulla Lombardia la quota neve sarà intorno ai 400-500 metri con possibili fiocchi sulla Brianza nella notte. Accumuli attesi sui 10 o 20 centimetri su basso Piemonte e superiori ai 30 centimetri sopra gli 800 metri di quota un po' su tutto l'arco alpino, restate aggiornati perché dopo il 10 dicembre è atteso un altro peggioramento del tempo alimentato da forti correnti in arrivo dal nord Europa. Infatti la neve potrebbe tornare e potrebbe imbiancare altre città del nord e del centro.